Ma non puoi dire il paio di scarpe, Davide! Sopero della parola! Ma non puoi dire il paio di scarpe! Due scarpe, non ha mai fatto male a nessuno! Ma non è vero! Rubano rame e oro! Ma io non parlo più con te, mi sono stufato! No, ma senti questa roba! Il primo miserabile che chiama per dire che Parenzo vuole a casa tua! Sì, vuoi legalizzare i mercati di merce rubata! No, ma di più! Vuoi legalizzare i mercati di merce rubata! Ti dico solo questo! Comunque, senti la barbuta, Roma! Senti cosa dice la barbuta, Roma! Viene considerato l'oro rosso, 4 euro... Sì, ma dove lo vai a trovare? Uno che se lo deve andare a rubare va bene! Due anni fa sono stati rubati i cavi di grame dell'aeroporto! Sì, ma quello lì erano cazzate fra ragazzini che si dovevano andare a comprare qualcosa! Si è spento l'aeroporto! Sì, ma non è una cosa che hanno fatto i grandi! Grazie! Grazie a tutti! Grazie! Grazie! Grazie a tutti! Grazie.